Balzo in avanti dei contributi per il territorio da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Nel 2025 l'ente di San Micheletto stanzierà la cifra record di 28 milioni e 600 mila euro, un milione e mezzo in più rispetto a quest'anno. Le cifre del documento programmatico previsionale sono state presentate dal presidente Marcello Bertocchini. L'aumento dei contributi per il territorio è stato reso possibile grazie all'occulata gestione del patrimonio della Fondazione. Grazie al fatto che il patrimonio della Fondazione sta crescendo significativamente negli ultimi tempi, un patrimonio ormai che ha superato il valore complessivo di un miliardo e mezzo e è possibile aumentare anche il valore della contribuzione sul territorio che già dal 2024 ma soprattutto nel 2025 e 2026 contiamo di portarlo vicino ai 30 milioni di euro. Partiamo dai 28 e mezzo il prossimo anno e poi contiamo che già nel corso del prossimo anno si possa aumentare anche a cifre più elevate. I settori nei quali convergeranno maggiormente le erogazioni, dalle previsioni che sono contenute nel documento programmatico che viene presentato oggi ed è stato approvato dall'organo indirizzo di risera e dall'assemblea all'unanimità lo scorso venerdì, riguarda principalmente il settore dell'arte e cultura dove va circa un terzo degli investimenti e dopodiché gli altri più importanti a seguire come quello del sociale, istruzione, la ricerca e negli ultimi tempi un particolare focus sul tema dell'ambiente. Continua anche l'attenzione particolare per le cosiddette aree interne della provincia in particolare quindi della valle del Serchio e dell'alta Versilia. Tra gli interventi più importanti c'è quello da 1 milione e 700 mila euro per il restauro e l'accessibilità del campanile di San Michele. Slitta invece ai primi mesi del 2025 l'avvio dei lavori per il nuovo polo espositivo all'ex cinema nazionale.